L'ultimo Brentarolo del Brenta si rivolge a noi di Rete Veneta per una segnalazione. Lui, che forse meglio di chiunque altro conosce quelle acque e quanto possa essere poco decorosa la presenza da mesi di rami e radici sotto il Ponte Vecchio. Scendendo, nuotando sotto il ponte, che c'è appunto una pianta, cioè se vede che sta a tradicare con l'ultima Brentana, un pezzo più tutta la radice bloccata proprio sotto il poggiolo che guarda verso il Ponte Nuovo. Automaticamente adesso, essendo anche un po' questa adunata degli alpini, penso che dovrebbe essere, che ho già fatto presente, a chi di dovere agganciarla appunto con un cavo d'acciaio e con un martinetto, tirarla via perché non è un bel vedere. Vi do la notizia a voi, sperando che qualcosa si muova, venga fatto. Io sono sceso proprio il 19 di maggio, che è il mio compleanno, e ho fatto i miei 75 anni sul Brenta, perché è da giovane che frequento il Brenta, e la ricorrenza, faccio sempre la notata, se è possibile, di fatti ho visto, ho recuperato anche un copertone domenica scorsa, che era incastrato sotto una stilata. Una passione è quella del Brentarolo che sembra non essere più di moda. Sono pochi, infatti, i giovani che frequentano e valorizzano il fiume. C'è gente che viene in Brenta, però sono pochi quelli che si apprestano a entrare in acqua, a nuotare. Insomma, ormai si è persa quella caratteristica del Brenta che attirava la cittadinanza. Una volta tutti andavano sul Brenta, era il nostro mare, si può dire. Grazie. Grazie. Grazie.